Salve ragazzi qui dal Tentotto, come va? Che si dice? Una bella update, aggiornamento c'è stato anche per Jurassic World Alive e ovviamente qualcosa mi dice che sono dei compsognatus mi state dicendo veramente che hanno introdotto il compsognatus come animale? No, io sono curioso Guarda che c'è l'aggiornamento e cose varie ed è un pezzo che non lo portavo, sono sincero, sono su sincero quindi aspettatevi qualche cattura, qualcosa così perché non è che ora, credo che il combatte sarà molto difficile Non ho più il gioco di Jurassic World da game quello là, sì, perché occupa solo spazio e non ci giocavo più Jurassic World Alive, bene o male, ancora faccio qualcosina, qualche partitina un po' lentino eh, stagione ha iniziato non mi interessa non mi interessa andiamo con ordine andiamo con ordine e prima cosa, ci toglierò di mezzo un po' di cose no, no, sì uh, nuovi animali un linguano donno però vedo qui in fondo qualcosa di interessante se lo clicco magari oh, e vabbè, e vabbè andiamo a trope catturiamolo, cerchiamo di catturarlo io vi ho detto, comunque inizieremo a catturare animali a destra manca quindi se tutto va bene oh, la grande non mi scappare non mi scappare mira, schifoso quasi un'altra mano un'altra mano un'altra mano non mi scappa oh, preso andiamo non è andato male, 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 male poteva andare anche peggio ok per poco lo sbloccava bene c'è quel linguano donte che, che fammono lo catturiamo e scappa dal linguano donte ok eh, scappa no, è un furbacchione guarda come scappa oh, c'è ancora là dietro cerchiamo di sbloccarlo a sto punto eh, che fammono non lo sblocchiamo eh non va bene così non va bene non ci provare dobbiamo sbloccarlo il più presto possibile che già è tanto che no, che mira schifoso vabbè, andate 34 ce l'abbiamo fatta ditemi di sì dovremmo averlo sbloccato proprio wow, ce l'abbiamo fatta che culo so che c'era questo che mi stava ah, è lui ok perché vedo un uccello alato piomato oltretutto sì, oh, e basta oh, che cacchio sei eh, vediamolo come catturarlo sarà difficilissimo praticamente non lo cattureremo mai sto coso già ve lo dico qualcosina cinquantatré aquila di haste seconda generazione oltretutto eh vabbè eh vabbè eh vabbè saurici da fa qualcosa intanto stiamo ve l'ho detto io che faceva un po' di pesca chi è là in fondo? ah sì tu, ok sto un po' a guardare intorno che la cosa bella che io mi trovo è una buona posizione che poi questa è casa mia eh questa raga è casa mia quindi dove me l'hanno localizzata è casa mia è una cosa interessantissima lo so uno mi dirà scusa come fa ad essere localizzato perché probabilmente proprio che lavora un B&B è stato preso in considerazione come punto e questa cosa è importantissima ecco io questo dico Pokemon Go doveva fare la stessa cosa come sta facendo questo guardate praticamente ho una distanza chi è quello? via ah lo Stigimolo ok doveva fare così anche Pokemon Go Pokemon Go doveva ragionare allo stesso modo doveva più o meno fare un raggio d'azione del genere e darmi la possibilità di ottenere Pokemon aprire un po' di casse perché in pratica non ho nulla perché il gioco Pokemon Go mi dice esci fatti un giro ho capito però dammi una distanza di ecco come Jurassic World Alive che mi dice guarda senti fatti un giro rimani stai in casa è bloccato non ti puoi uscire per cose varie allora sai che fai puoi bloccare quello che puoi in zona in area quello che io quello che mi arrabbia ma bo finito già infatti Pokemon Go non ci sto giocando più perché non ho tempo per spostarmi a destra e a manca è un ritricerato sì perché i Pokemon Go ecco vedete dove sto io per esempio Pokemon Go dove stare io non ho nessun'area dove posso dire guarda c'è un pocket come cacchio si chiama un pocket points quindi grazie scusate per star nude niente volevo fare una cosa simpatica no novità ok no vabbè ma di cosa stiamo parlando subito subito raga come si chiama fortuna e che famo non blocchiamo il tirannosaur cioè già ce l'abbiamo però se lo livelliamo non è una cattiva cosa ogni errore è vitale qua è gravissimo no oh 66 oh the 66 ci sta ci sta tutto bella possiamo potenziarlo un po' ho un po' di raffreddore fatemi vedere se c'è qualcosa interessante per prima cosa andiamo qua raccoglie raccoglie bella raccoglie bella raccoglie guardate guardate io io gioco giusto così libero no andiamo con ordine ritorniamo qua perché noi di animali ne abbiamo un bel po' comunque non è che non ce li abbiamo oh ecco potenzia un po' il t-rex della seconda generazione perché se non è questa è la seconda generazione giusto è infatti ok sblocchiamo a lui ecco questi sono uno di quegli animali che tendono molto più a essere mammiferi che rettili queste bestie si queste bestie voi sapete no che i dinosauri o comunque creature pestoriche si alternavano anche tramite evoluzione quindi dal dall'anfibio al rettile dal rettile a uccello però a volte succede che il rettile passava a ucce non più a uccello ma anche a mammifero come lui ad esempio anche lui strano a dirsi anche lo stesso ve lo faccio vedere subito perché questo poi io ci scopro a caso le cose e poi inizio a indagare anche per parti mie pure questo bella bestia di satana lui che ho pensato che è un certo gigante è più molto vicino da un mammifero che da un rettile o tra virgolette uccello come tanti altri animali preistorici è il dimetrodon che scopro che mezzo a mammifero ci sono rimasto triggerato no come si dice sono rimasto un po' wow sorpreso bene vorrei fare un combattimento in realtà però mi sono interessato a fare questo bel giro di perlustrazione e caccia che è là in fondo chi è quello ah vabbè si uh che fanno lo catturiamo Stigimolok cioè catturiamo gli lanciamo le cose addosso in amicizia oggi facciamo solo una cosa di caccia una cosa così ragazzi non parliamo né di novità né di news non ci sta niente neanche in Jurassic World non si sta facendo sentire un ben niente anche se so che le riprese sono finite stanno in fase di montaggio quindi tutti gli effetti speciali tutte quelle cose là risistemazione di luci sceneggiatura sceneggiatura no scusatemi scene riadattate riprese rifatte in un certo modo cioè tutte queste cose qua sono in fase di montaggio sì non si sta a sapere nulla potrei parlare del Camp Cretaceous però è uscita la terza stagione deve uscire quindi devo aspettare anche la terza stagione che mostreranno finalmente il nuovo il nuovo come si chiama il nuovo ibrido e si parla forse anche del ritorno dello Spinosaur raga ma staremo a vedere io però la stacco qua raga perché abbiamo fatto giusto dice una bella partita anche se secondo me secondo me un combattimento lo possiamo pure fare che ne dite un combattimento un 1 semplice combattimento wow questa ancora qua stava apri ero sicuro che l'avevo attivato in realtà dovrei raccogliere ah perché è finita la stagione faccio schifo era finita la stagione e tocca per continuare ho capito però mamma mia niente oggi il gioco mi sta prendendo un po' in giro ho capito sto cliccando sto cliccando sto cliccando non vuole essere toccato non vuole andare avanti lo so che la stagione è finita però si è imballato non ci credo io che volevo provare un combattimento non ci fosse vabbè è andata si è bloccata vabbè volevo già stoppare in realtà il gameplay quindi tutto a posto vabbè raga io qua vi saluto un video poi velocissimo è stato a tenere di gioversi a live sarà per la prossima volta qui del 38 passo e chiudo